Vediamolo, vediamo, dov'è? Mi dica sta frase, stia attento alle vocali! Allora, le amazzoni... Io provo adesso... Ma io non lo so, ma voi avete la mente, io non lo so, mi dia sta soluzione. Vincero battaglie grazie alla loro... Figa! Si va al Giancarlo... Ma roba da matti, chiediamo scusa però a tutti i riderani in questo momento.